Nessuna proroga per gli aghieli. Il commissario del Corisa 4, Giuseppe Vitale, avrebbe già pronti i documenti per la messa e liquidazione della società partecipata. Per l'ufficialità bisognerà attendere questa sera. Vitale quasi certamente non si presenterà all'assemblea del CDA, prevista dinanzi ad un notario a Salerno. La sua assenza determinerà di conseguenza lo scioglimento dell'agliele in scadenza per domani. Il condizionale è d'obbligo perché potrebbe arrivare anche in queste ultime ore la revoca per Vitale da parte del presidente della provincia Canfora con la nomina di un commissario che questa sera possa decidere per la proroga. Il consorzo detiene l'84% delle quote societarie per cui ogni decisione spetta al commissario. Già ieri sera è andata deserta l'assemblea in prima convocazione. Il sindaco di Canfora è stato nominato commissario a pochi giorni dalle elezioni provinciali dell'ex presidente Iannone con un unico obiettivo. Mettere la parola fine sull'agliele presieduta da Marcello Ametrano, vice sindaco di Vallo della Lucania e negli ultimi anni vicino a Fratelli d'Italia di Marcello Feola. Poi l'idilio politico si è spezzato con un improvviso avvicinamento di Ametrano all'Udc di Covelis. Accordi e intrecci politici che hanno finito con il travolgere, oltre al CDA della partecipata, anche gli oltre 300 lavoratori dell'agliele preoccupati per gli effetti che lo scioglimento della società potrà avere sul loro futuro occupazionale. Gli operai hanno trascorso il Natale nell'attesa della proroga, ma a quanto pare Vitale resta fermo sulla sua posizione, nonostante le indicazioni ricevute dal presidente della provincia Giuseppe Canfora. La scadenza dell'agliele è fissata per domani.